Ad Alamata, nella regione del Tigre, in Etiopia, è giorno di mercato quando una serie di attacchi aerei falcio alla popolazione civile tra le bancarelle. 38 i morti e oltre 80 i feriti. Secondo l'emittente televisiva controllata dai separatisti, il raid, che si ripete per tre giorni, è opera del governo federale. Un cratere nella strada del mercato è la ferita visibile del bombardamento. Hanno attaccato il mercato con aerei e droni, ribadisce il capo della sicurezza della città di Alamata, e hanno ucciso le persone che compravano e vendevano. La scintilla che ha innescato il conflitto risale al novembre del 2020 con l'attacco da parte dei separatisti del fronte di liberazione del Tigre nei confronti di alcuni soldati federali nella caserma principale di Macallè, la capitale del Tigre. Una sortita a cui il primo ministro etiope Ahmed aveva risposto con l'offensiva militare contro l'esecutivo regionale del Tigre.